Oggi dall'economia arrivano quattro notizie, due buone e due cattive. Con un po' di esercizio di ottimismo, meglio cominciare dalle prime, che ce ne siano. Per il nostro paese, visti i tempi, è già qualcosa. E oggi ad accennare un sorriso è quell'industria che a prezzi salatissimi ha pagato la crisi. Secondo i numeri diffusi oggi dall'Istat, infatti, ad aprire la produzione, a sorpresa, ha conosciuto un'impennata dello 0,7% a livello congiunturale e dell'1,6% rispetto allo stesso mese del 2013. Indice trainato dal settore manifatturiero, da quello metallurgico e da quello alimentare. Per quanto riguarda il rialzo annuale, si tratta del miglior risultato dall'agosto del 2011. Insomma, segnali che qualcosa nel sistema produttivo del nostro paese ha cominciato a muoversi, come dimostra anche, seconda buona notizia di giornata, il superindice dell'Oxe, in base al quale il nostro paese ad aprile è stato l'unico, tra quelli del G7, a registrare un'accelerazione della crescita, per una volta, facciamo meglio, anche della Germania. Già, la crescita, l'indicatore Oxe cerca di anticipare i punti di svolta dell'economia, il problema è che quell'economia, ed è ancora l'Istat a dircelo, pur provando lentamente a muoversi, continua a fare molta, molta fatica. I numeri, in questo caso, certificano che siamo passati da una profonda recessione alla stagnazione. Nonostante infatti il lievissimo aumento, appena lo 0,1% congiunturale, dei consumi nel primo trimestre 2014 e il primo dalla fine del 2010, le stime di metà maggio vengono, purtroppo, confermate in pieno. Meno 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, meno 0,5% rispetto al periodo gennaio-marzo 2013. Il problema vero è che, se continuasse così a fine anno, la ricchezza nazionale calerebbe dello 0,2%, lontano dal pur prudente più 0,8% stimato nel DEF. Se continuasse così, ma le buone notizie delle quali abbiamo parlato fanno sperare che così non continuerà e che, anzi, la situazione possa migliorare nonostante le immancabili bacchettate della severissima con l'Italia, Standard & Poor's, che ha sottolineato come il debito del nostro paese nel periodo 2006-2013 sia cresciuto di quasi il 72%, ma soprattutto come la necessità di ridurlo rischi di bloccare la ripresa per anni, la nostra ma anche quella dell'Eurozona nel suo complesso.